...in diretta su Radio Studio Più e tutti noi che sono qui alla Maya, sentite il pubblico della Maya questa sera siamo arrivati al tredicesimo appuntamento una serata che nasce da una serie di coincidenze eravamo nel 1999 e stavamo pensando ad realizzare un evento, tredici anni fa e dopo tredici anni siamo ancora qui io avevo appena acquistato le frequenze di Radio Studio Più che ci consentivano poi di farvi arrivare questa musica e di promuovere questa grande serata volevamo creare un evento che festeggiasse il nostro arrivo ma soprattutto un evento che facesse rivivere a tutti quelli che hanno frequentato la baia degli angeli negli anni che furono quelle atmosfere che ancora una volta questa notte Daniele e Bandelli ci faranno rivivere perché quella volta qui iniziamo qui in un ascensore che era fuori sulla piscina e adesso torna qui e con il nostro applauso inizia il tredicesimo primo evento baia degli angeli grazie a tutti 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 grazie a tutti